Anime che ti ha più colpito tranne Dragon Ball a livello emotivo? Ma a livello emotivo non mi ha colpito manco Dragon Ball Cioè mi ha colpito, cioè da piagne, proprio di brutto Abenobashi, soprattutto la bella puntata quella centrale Che ti spiega un po' le origini del mondo di Abenobashi È stata straziante, si alza il vento, Porco Rosso, piango tutte le volte Perché io piango poi, mi emoziono insomma con i film Nei momenti secondo me un po' più strani Perché mi emoziono quando vedo uno straordinario impegno artistico in un prodotto Grazie a Cardam più di cento pippoli Cioè io quando vedo il salvataggio delle bambine della scolaresca E i mamma aiuto che volteggiano insieme a Marco Io lì provo un'emozione talmente forte che mi commuovo Un po' come quando hanno annunciato i tre personaggi, i tre eroi di Dragon Quest Grazie a Risoluto 92 Non era tanto... cioè alla fine si tratta di un personaggio giocabile Che ho utilizzato forse una volta per prendere gli spiriti e poi basta Ma mi ha colpito il fatto di riconoscere così tanto il valore di una saga che io ho amato E che mi ha dato veramente tanto in tutta la mia vita E poi vedere soprattutto il protagonista dell'otto Che è stato il gioco della mia adolescenza Si può dire più di ogni altro GTA Più di ogni altro Dragon Ball, Budokai, Tenkaishai Più di ogni altro gioco al mondo Eh ragazzi quello è stato un colpo grosso Poi è bellissimo il filmato con tutti gli spadaccini La musica di Dragon Quest 3 Cioè veramente stavo perdendo il cervello Mi sono veramente emozionato Tra l'altro era anche in live e mi avete visto veramente provato Grazie a Wasdal per l'abbonamento E tante altre, tanto altre Quando mi sono trovato di fronte a un Pollock per la prima volta Ho provato un'emozione fortissima Dipende, poi ci sono anime invece bellissime Ping pong, cioè quando vedi le parti di ping pong Io avevo il cazzo duro Cioè ma il cazzo duro Cioè quando vedevo quella regia lì di Yuasa Tutto lo schermo che si spezza Spicchi per farti vedere tutti i punti di vista La pallina, il dettaglio Io stavo morendo Ma anche il finale di Evangelion Che tutti ci piangono Ci piangono nel senso ironico Ma che cazzata Io era un'emozione fortissima Un coraggio Una furbizia anche perché avevamo finito i soldi Insomma quindi Eh, ho provato proprio un'emozione fortissima Poi vabbè, tanto altro Ripeto, Benobashi mi ha fatto emozionare parecchio Perché a me tutte le cose che riguardano l'infanzia Il paesino Le storie che alleggiano nel paesino Nelle piccole comunità Ecco, 20th Century E poi 20th Century Boys Ecco, 20th Century Boys È il manga che ancora veramente Mi mette in difficoltà Un po' come Slam Dunk Soprattutto l'ultima partita di Slam Dunk 20th Century Boys Si mette in difficoltà in tutto Cioè ogni tre pagine È un brivido È uno scossone È un ricordo È proprio il manga Che non mi abbandonerà mai Per tutta la vita Cioè è proprio il manga Della mia vita Capped Capped quando ci giocavo Io ero impietrito Impietrito Distratto da tutto Da tutto Da ogni cosa Eh, sono state belle esperienze Anche God of War Boia Cioè L'ultima partita di Slam Dunk È Minchia È proprio Persona 5 Ice Mamma mia Mamma mia Quanta roba Quanto mi ha regalato Persona 5 Mi ha regalato delle robe Undertale Sì Mamma mia Mamma mia C'avevo Boia Boia La cappella Quando stavo Ero contro Sanz C'avevo la cappella Mi si stava sfondando Contro Metatron Cioè che praticamente Lo sconfiggi ballando Capito Intrattenendo il pubblico Ballando con la danza Seguendo le sue mosse di danza Lo sconfiggi Con un metodo Che è l'antiviolenza Per eccellenza Cioè ballando Divertendoti Facendoti divertire Gli altri Però Megalovagna Per me rappresenta Proprio tutto Cioè lo scontro Con Sanz È tutto Per me Perché lui È il giudice È il giudice Che giudica Le tue malefatte E le tue buone azioni È ovunque Un po' come suo padre No? Ora Vabbè Chi non ha giocato Undertale Vabbè Lasciamo perdere Però è ovunque Come suo padre Ti osserva sempre Perché devi essere punito È meta È meta Videoludico È meta Tutto Quel cazzo Di mostro Se non sai Chi è il padre Di Sanz Non te lo dico Anche perché Non lo puoi Beccare sempre Il gioco Tira un dado All'inizio E se becchi Il punteggio giusto Hai la possibilità Di vederlo O di vedere I suoi Allievi Servi I follower Vabbè Sì Dai È il padre Ragazzi È il padre Vabbè Forse farò spoiler Abbassate l'audio Nel caso È il padre Si capisce Perché trovi Trovi Tutti degli accenni Di lore Nel retro Della casa Di Sanz E poi si scopre Soprattutto Come si chiamano I I cannoni Di Sanz Insomma Si sa Comunque Che lui È praticamente Non ti dico È confermato Ma insomma No No Non sono I cannoni Che flexa Sono i cannoni Sono quelle Quelle specie Di Sono teste Animalesche Quasi Che sparano I raggi No Quelli si chiamano Gaster Cannon Mi pare Cioè i cannoni Di gaster Che sono Stati inventati Da suo padre E poi praticamente C'è tu I gaster blaster Ecco Non cannon E praticamente Sanz Avete visto Che si sposta Da una parte All'altra Praticamente Con una trasmissione Istantanea Perché Cioè Si dice Che abbia ricevuto Questo potere Dal suo padre Che in ogni dove Sempre Allo stesso momento Per un esperimento È andato male Perché Gaster Ha inventato I Il core Di Undertale Proprio E Però Si dice Che l'esperimento È andato male Quindi lui è rimasto In tutte le dimensioni Possibili E quindi È in tutte le dimensioni Possibili appunto E puoi raggiungerti Sempre un po' Come Sanz Sulla teoria Dell'essere in ogni dove Uno dei follower Dice Non è Carino Parlare Di una persona Che ci può sentire Questa cosa qui Te la confermo E poi te lo confermo Anche il fatto che Sanz si sposti Sempre Da uno schermo A quell'altro Praticamente Istantaneamente Basta Minchia Volpe Rocky Joe E Detti ecciti La roba grossa Roba colossale E No Rocky Joe È tosto Rocky Joe Ecco I momenti Veramente In cui mi ha messo Ci sono stati tre momenti Che mi hanno veramente Che ero proprio In sindrome di Stendhal Allora Il primo È tutto L'arco narrativo Con Rikishi Non faccio spoiler È tutto L'arco narrativo Con Rikishi Perché La gente Sottovaluta una cosa In quell'arco narrativo Che in realtà Il protagonista Non è Joe Ma è Rikishi stesso Perché improvvisamente Un personaggio Secondario Che però Era molto Legato Al destino Di Joe Improvvisamente Si ritrova Ad essere Il piatto forte Di quell'arco narrativo E soprattutto Si vede Come l'autore Dà un'importanza Assoluta Alle sue emozioni Al suo modo Di allenarsi Al suo modo Di sacrificarsi Per lo sport E per combattere Contro Joe E quindi Ciao Secondo momento Quando incontra Se non erro Vorrei sbagliare Cognome Mendoza Che lo incontra Appoggiato Al muro Joe va da lui Mendoza Mendoza Tipo gli fa Così Sembra quasi Un gesto Affettuoso Contro un avversario E poi Joe Quando arriva a casa Si trova i lividi Quella roba lì Nonostante sia Molto esagerata Mi ha fatto venire I brividi Terza cosa Vabbè Lo sappiamo tutti Cioè Chi ha letto Rocky Joe Non la dico Chi ha letto Rocky Joe Sa benissimo Qual è il terzo momento Chiave Più famoso Citato Pluricitato In tutti gli altri manga Anche in GTA Lo citano Indopertutto E quello è proprio Un momento Tosto Anche perché L'autore ha deciso Ragazzi Da qui in avanti Il mondo del manga Cambierà Per sempre E infatti così è stato Non solo All'interno Delle storie Non solo Nell'influenza Degli autori Ma cambia Anche proprio A livello sociale Cioè Rocky Joe Era diventato Un fenomeno sociale Che va oltre La cultura pop Ma invade proprio La cultura E la società Al 100% A 360 gradi Quindi L'uomo tigre Invece no Non mi piace molto È invecchiato male È esagerato È tutto il contrario Di Joe Nonostante Venga poi Dallo stesso autore Comapisse Mille volte Mi sono emozionato Mille Decine e decine di volte Senza dubbio L'Ovon Ogni volta che Appare Mi dà Un'emozione fortissima Il suono della campana Ragazzi Nella campana Cioè Solamente le merde Non possono essersi Commossi Non possono Sì sì Non ti puoi Non commuove Quando l'Ufi Suona la campana Cioè Impossibile Dai Allora era vero Era vero Ce l'ha fatta Ragazzi Oltre Poi La saga di Skypia Momenti altissimi Nolan e Calgara Cioè ragazzi Vabbè Funerale vichingo La Go in Mary Va benissimo E anche mainstream Però è vero È emozionante Nolan e Calgara La storia lì È fantastica È una storia Eccezionale Ma anche il rapporto Tra Zef e Sanji Ma Milioni Ragazzi Milioni di Ogni volta che Usopp Dava dimostrazione Di sbloccare Un Nuovo potere Magari non era un potere Della fionda Ma era Una soddisfazione personale Era L'acquisizione Di coraggio La presa di coscienza Delle proprie capacità Ah ecco Usopp in generale È un personaggio Che mi ha sempre affascinato Terribilmente Usopp era bello Perché ti faceva ride Perché è un personaggio Comico Divertente Grazie a Mostarda Marcia Per i 3 euro Però allo stesso tempo Era un po' Il lettore Io l'ho sempre visto Come il lettore Cioè È Quel lettore Che è talmente Fissato Con One Piece E quindi con la sciurma Di Cappello di Paglia Grazie a Itz Mattia Che decide quindi Di salire a bordo Della Goin Mary E salire a fianco Di supereroi Fondamentalmente Perché Zoro Tira su palazzi Rufy S'allunga Nami Ha tutti i poteri Atmosferici Poi c'ha una grandissima Conoscenza Usopp inizialmente Sembra un coglione Lava marce Eccetera Poi piano piano Capisci che non è un coglione Perché ha una mira Quasi infallibile Infallibile Ha una grande forza Di volontà È un puro di cuore È una persona Che pensa sempre Al prossimo E quindi piano piano Ci medesimiamo Sempre di più in lui Perché noi siamo Usopp Cioè noi siamo Su quella barca E stiamo inseguendo Un'avventura Forse più grande di noi Che a un certo punto Però viene minimizzata Dal nostro carisma Che cresce Dalle nostre potenzialità Che crescono di conseguenza Quindi È proprio un potere Che Sì un potere È proprio un Un personaggio Che mi ha sempre Affascinato tantissimo E che scoppia ovviamente Nello scontro contro Rufy Dove capiamo Che può mettere In difficoltà Addirittura Un capitano E addirittura Un uomo Ricercato Da mezzo governo mondiale Non sconfiggere Ma Mettere in difficoltà Na rubuto Sì sì Poi un altro momento Che tanti sottovalutano È quando Frankie Iceberg E Tom Finiscono il treno Ecco Quello È veramente Secondo me Uno dei tre Quattro Cinque forze Momenti più alti Tutto One Piece Perché Quando Frankie Sale su quella Specie di scoglie E vede che Finalmente Dopo tentativi Tentativi Derajamenti Esplosioni I cazzi I mazzi Finalmente Il Puffing Tom Funziona Ed è stato Collaudato A meraviglia Lì è veramente Ritorni alla vita Ti emozioni tantissimo Perché Tom Non è riuscito Solamente a salvare Se stesso Dalla pena capitale Poi vedremo Insomma Che Le cose andranno Diversamente Ma ha salvato Anche un'intera isola Un intero popolo Fantastico Fantastico Che era praticamente Ridotta alla fame La miseria L'eclisse In Berserk Mamma mia Ragazzi Porco tu Poi lo scontro Kira Josuke Mamma mia Stupendo Anche Nell'anime Lo sconto Lo sconto Tra il giorno E King Crimson Bellissimo Che lui si gira All'infinito Così Mamma mia Bellissimo L'hanno reso Veramente fantastico L'ultimo scontro Mentre nel manga Più confusionario Nell'anime Veramente Una chicca Buona All'infinito Buona Bellissimo Veramente Metallica È doppio Sì però Lo scontro Metallica È doppio È talmente Bello Quanto esagerato Perché c'è Doppio C'ha le forbici Le lame Nel collo Continua A rimanere In piedi È un po' Esagerato 3 momenti Top Di slam dunk Allora Prima posizione Sento spoilerare È Un'azione Che viene Compiuta Nell'ultima Partita E che viene Raffigurata Con una doppia Splash page Praticamente A fine partita Basta Primo posto Secondo posto Un personaggio Che mette Una mano Sulla testa Di un altro personaggio Terzo posto An amici Che sale Su un tavolo Per dire una cosa Top Top momenti GTO Tanto Chi ha letto GTO Lo capirà Lo so Ma io sono Maldestro Frase in cui Mi sono riconosciuto E ancora mi riconosco Dopo 15 anni Secondo Secondo momento Determinati personaggi Di saghe Videoludiche Cinematografiche Che sfidano Onizuka In una sfida Particolare Contro Cento Quello Momento Per me Incredibile E ovviamente Quando Onizuka È per l'ultima Volta All'ospedale Shonanjuneigumi Ragazzi Ora si va avanti Shonanjuneigumi Shonanjuneigumi Vabbè Primo posto In assoluto Ci vediamo Chi ha letto Shonanjuneigumi Lo capirà Sicuramente Ci vediamo Con l'abbraccione Sono tutti Negli ultimi Cinque volumi Il momento Del lucchetto E La gara La gara Dei Settecento Km Rari Ecco Per capirsi Basta Non dico altro Ragazzi Basta 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 Hunter Hunter Bellissimo Super Vabbè Però Libby Spolerissimo Vabbè Comunque Quando Gon Decide Di arrabbiarsi Un pochino Quello è il momento Forse più bello Della mia vita Si arrabbia un po' Pochino Eh poco poco L'abbraccione L'abbraccione